Dalle opere infrastrutturali al loro impatto paesaggistico ambientale, dalle lame ai siti di interesse geologico alla tutela del patrimonio architettonico del territorio e ancora dalla strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici alle politiche per il diritto allo studio. Sono alcuni dei temi rispetto ai quali sono stati chiamati a rispondere i cinque candidati sindaco della città di Bari nel corso di un confronto organizzato e promosso dall'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Bari. Siccome il futuro sindaco dovrà affrontare diversi temi, noi sottoscrittori presentiamo alcuni temi, ma questo può dare intanto l'indicazione di qual è il sentimento che le categorie tecniche sentono, ma soprattutto vogliono essere anche uno stimolo a interessarsi di quei temi. Incalzati su sette domande poste dalle categorie interessate, Fabio Romito, Vito Leccese, Michele Laforgia, Sabino Mangano e un delegato per conto di Nicola Sciacovelli, si sono confrontati sui temi urbanistici con riflesso socio-culturale ed economico per la città a partire da alcune priorità. Di urbanistica si vive e di urbanistica si muore. Ieri siamo stati al parco della Fibronit, è uno degli esempi purtroppo drammatici di come la cattiva urbanistica ha ucciso le persone e di come rischiava di continuare ad ucciderle. Innanzitutto più rigenerazione urbana, meno espansione, meno consumo del suolo, dimezzare le volumetrie, ridurre le volumetrie per utilizzarle in modo utile e razionale. Bisogna far comunicare i due piani regolatori, il piano regolatore del porto e il piano urbanistico generale, che non comunicano fra di loro. Rispetto a questo bisognerà immediatamente mettersi al lavoro per agganciare questi due pezzi di città fondamentali. Una città che era stata dimensionata per 600.000 persone, oggi ne ha 300.000. Ha bisogno di rivedere tanti spazi comuni, sia dal punto di vista dell'edificabilità, ma soprattutto dal punto di vista della viabilità e di quei contenitori che sono il porto, l'area commerciale, che hanno bisogno di ridefinirsi.